L'obiettivo per EFPA Italia è comunque di continuare il trend di crescita, una crescita che è stata importante nel 2017 e che vogliamo replicare negli anni successivi. Un obiettivo sicuramente ambizioso potrebbe essere quello di concludere i quattro anni della gestione ordinaria con un obiettivo di almeno 8.000 certificati. Questo è il nostro auspicio, quindi si parla di crescita, ma non solo questo. Non vorrei solo limitare gli obiettivi di EFPA solo alla crescita numerica dei certificati. C'è un altro passo importante, qui richiamo il mio intervento iniziale sul palco, in cui mettevo in evidenza l'importanza della conoscenza del brand tra i risparmiatori. Credo che questo sia quello che chiedono tutti i certificati a EFPA Italia. Diciamo MIFID 2 non può che essere un elemento che favorirà lo sviluppo delle certificazioni. Chiaro che questo ha anche permesso una maggiore concorrenza, altri enti di certificazione si stanno affacciando sul mercato, sarà compito di EFPA Italia mantenere alto il livello qualitativo per vincere questa sfida.